Fioccano le prenotazioni, 500 al momento, ma continuano ad arrivare incessantemente per i test seriologici e questo solo ai centri Verreggia di Salerno che sono partiti questa mattina per l'esame che ricordiamo viene eseguito con un preciso triage solo su chi non ha sintomi di contagio al Covid-19 quali febbre superiore a 37 gradi e mezzo, tosse o affari. Si lavora per prenotazioni, un prelievo ogni quarto d'ora. Abbiamo ampliato le nostre sale di attesa, come dicevo oggi a altre persone. Abbiamo due sale di attesa di 5.000 m2, abbiamo messo anche altri operatori sanitari come infermieri e dottori per soddisfare la grande richiesta di prenotazione che sta arrivando. Attende invece ancora la pubblicazione da parte della Regione Campania del provvedimento che revoca il divieto di eseguire i test prima di avviare le procedure il dottore Cavallo. Non appena avremo il provvedimento partiremo anche noi e mi permetto di segnalare che quanto diciamo a prenotazione, a quanto a richieste di aziende anche noi ne abbiamo ricevute un bel po'. È già partito dal lunedì scorso invece il dottor Corrado Marino che in media processa circa 70-80 test al giorno. Intanto sia il dottore Marino che Cavallo hanno comunicato ieri in trasmissione di aver eseguito una serie di test. Il dottore Cavallo ha sviluppato un lavoro che come ricercatore di gene all'Università di Salerno ha finanziato con il suo centro. 150 test su asintomatici. Le indagini sono finite una settimana fa. Una volta pubblicato il lavoro potrebbe essere il primo di metabolomica del Covid al mondo ad essere reso pubblico. Stessa operazione è stata fatta dal suo collega Marino con questi risultati. Abbiamo trovato nella popolazione asintomale, quindi nei nostri dipendenti agnosi a Cavallo, i colleghi dell'ospedale, familiari, persone che non hanno avuto neanche un colpo di tosse, neanche uno starnuto, niente nell'arco di gennaio, febbraio, marzo. In che percentuale avete trovato? Abbiamo trovato un 7-8% di persone con anticorpi a valori molto bassi che peraltro in un paio di casi che abbiamo ristudiato, a distanza di 15-20 giorni quella piccola concentrazione di anticorpi si era quasi azzerata. Abbiamo lo stesso test che si adopera, è quello dello SNI, che è quello che usiamo noi. Non con l'università ma con la nostra volontà. ci siamo autotassati anche noi, abbiamo fatto in fase precedente questi test a tutti i dipendenti collaboratori, dei laboratori che collaborano con noi. In verità abbiamo trovato purtroppo tra i colleghi o i tecnici di laboratorio una 7-8% positivi solo per le IgG, qualcuno positivo ad alto titolo per le IgG, questa persona però era stata già diagnosticata positiva con un tampone. quindi secondo noi c'è il riscontro e per rispondere alla sua domanda certamente l'importanza di questi test è farne tanti perché bisogna coprire gran parte della popolazione proprio per motivazioni demiologiche.